Sono Stefania Mi sento una donna determinata, brillante, capace di carriera però fondamentalmente sono una donna di famiglia Ha la sicurezza di essere una donna arrivata ma l'insicurezza di che tipo di donna essere Il fatto di essere mendata, di non sapere, di non potermi muovere e quindi di dovermi fidare Ho sempre la sensazione di arrivare sempre a seconda È vero che sono stanca a un po' di ruolo che ho, voglia che un uomo si prenda cura di me non me l'aspettavo assolutamente Difficilmente depongo la scia di guerra nei momenti in cui l'ho fatto ho sofferto molto Il tuo terrore, vero, è quello di trovare l'uomo che ti dica sì ti amo, ti voglio, voglio stare con te per sempre Grazie a tutti Grazie a tutti